Preteranno il via lunedì prossimo 20 settembre così come stabilito dalle indicazioni della struttura commissariale nazionale le somministrazioni della terza dose del vaccino Covid-19 nelle quattro asla abruzzesi. In questa prima fase, che coinvolge una platea potenziale di circa 30.000 cittadini, tra trapiantati, dializzati, soggetti con immunodeficienze HIV, non verrà utilizzato il sistema per annotazione, ma saranno le stesse aziende sanitarie a contattare telefonicamente i pazienti e a fissare l'appuntamento per la somministrazione. Successivamente seguiranno le altre categorie previste dalle circolari ministeriali, ossia gli over 80, gli ospiti delle strutture per anziani, il personale sanitario e sociosanitario, lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Intanto, dopo l'esperienza del liceo scientifico Galilei di Pescara, proseguono le giornate dedicate ai ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni, organizzate dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asla, diretto dal dottor Polidoro, con il Ministero della Difesa e il Comune di Pescara. Oggi è la volta della scuola media statale Rossetti, dove non solo gli studenti possono vaccinarsi, anche il personale docente e non docente e i genitori, il vice sindaco di Pescara Santilli. Abbiamo iniziato giovedì scorso con il liceo Galilei e oggi è la seconda giornata. In questa scuola, che è la scuola media Rossetti, confluiranno anche i ragazzi della scuola media Mazzini, del Coreutico e del Misticoni. Quindi speriamo di raggiungere un numero abbastanza elevato. Questa è un'iniziativa bellissima che insieme al Comune, l'AS e l'Esercito siamo riusciti a organizzare per dare la possibilità a tutti i ragazzi sopra i 12 anni, anche i familiari se vogliono, di fare il vaccino. Per quanto riguarda positività in classi e scuole, Pescara come sta ammessa? Allora, abbiamo un caso positivo nel comprensivo 2 e speriamo che sia l'unico. Quindi la raccomandazione che io faccio e che farò in tutti questi giorni è quella di continuare a stare attenti, di rispettare le regole, di mantenere la mascherina, di mantenere il distanziamento, di lavare le mani. Proseguiranno le vaccinazioni anche in altre scuole della città in loco? Stiamo organizzando, la prossima settimana abbiamo la volontà e la voglia di coprire tutte le scuole di Pescara. Quindi grazie all'AS e grazie all'Esercito sicuramente continueremo durante tutta la prossima settimana.